Gli anticorpi, io credo che è un movimento in cui è salito tanto, un movimento che ha perso la sua originaria natura, quello dei meetup dove c'era veramente una voglia di rottura, di libertà e di pulizia. È un carro in cui sono saliti in tanti, gli anticorpi non ci sono, però c'è molta arroganza nei capi politici del movimento. Non c'è quell'umiltà di mettersi in discussione, di comprendere che essere impenetrabili a mafia e corruzioni non è che c'è una ricetta, vai al mercato, rionale, io vorrei acquistare la ricetta per essere impermeabili. Io loro penso che da un lato sono infilabili come il burro perché c'è anche una grossa incompetenza, dall'altro devo dire che da come li sto conoscendo, da quando stanno al potere, non mi sembrano proprio questi paladini della questione morale, devo essere sincero, quindi su questo c'è una profonda delusione, c'è un gap tra quello che è l'elettorato, quello che è la storia di alcuni militanti e quello che è diventato come vertice questo partito. Sono entrati benissimo nel sistema castale, ne stanno avendo le sembianze e probabilmente saranno anche peggio di quelli che ci hanno preceduto.